Grazie. Grazie. Presenta! Onore all'onorevole Giuseppe Zamberletti! Grazie. Onore all'onorevole Giuseppe Zamberletti! Signore del tuo Spirito Santo, la pace sia con voi. In quest'ora la mestizia, il desiderio di rendere l'ultimo congelo al nostro fratello Giuseppe. Atte! Onore all'onorevole Giuseppe Zamberletti! Onore all'onorevole Giuseppe Zamberletti! Grazie. Onore all'onorevole Giuseppe Zamberletti! Onore all'onorevole Giuseppe Zamberletti! Grazie. Grazie. Grazie.